buonasera ragazzi sono stato invitato presso la palestra ads charlis gym di casal nuovo per un allenamento a bombazza dal mio amico tony dove si allena presso la tatami black mamba dove gli porterò il mace bell che ho costruito per lui adesso lo metto in macchina adesso ci richiamo alla palestra e vai con il salto temporale ragazzi siamo la charlis gym adesso effettueremo un bell'allenamento a bombazza e poi conosceremo i ragazzi della tatami black mamba alla faccia dei carognoni che dicono che i pesi nel garage gym sono finti adesso vi faccio vedere questi qua che bebi bambi Sì 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 iscriviti al nostro canale un attimo di silenzio ragazzi adesso consegniamo lo scettro il mesbel al nostro grande Tony Olivetta ragazzi un applauso e il 6 al dei usciti e questa la metteremo in qualche bel video ok ragazzi qualche bel video a bombazza va bene? tutti rinna staccaria lavarete ready? ready ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti. Allora ragazzi, dalla Tatami Black Mamba e dal grande maestro di Brasile Jiu Jitsu, Anthony Olivetta, mi raccomando, allenatevi sani e a Buon posto! Allora ragazzi, dalla Tatami Black Mamba e dal grande maestro di Brasile Jiu Jitsu, Anthony Olivetta, mi raccomando, allenatevi sani e a Buon posto! Allora ragazzi! Allora ragazzi! Allora ragazzi! Allora ragazzi! Allora ragazzi!